Buonasera, oggi sulla piazza di San Giovanni in Fiore proseguiamo il nostro tour itinerante in vista delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre. Perché San Giovanni in Fiore dovrebbe eleggere Lacava Sindaco? Perché chi vota Domenico Lacava vota per l'appartenenza, innanzitutto alla comunità di San Giovanni in Fiore e poi vota per l'appartenenza alla sinistra, non vota per chi invece è passato con il potere, è andato via, è andato a destra perché a destra c'è il potere. Con me ci sono ragazzi e ragazze libere che hanno scelto liberamente di stare nelle mie due liste, non li abbiamo ricattati, noi gli abbiamo promesso il posto di lavoro all'acqua e sapone, all'acqua e sapone gli hanno promesso il posto di lavoro per mettere persone nelle liste. Con me ci sono ragazzi e ragazze libere di sinistra, di sinistra e libere che appartengono a questo territorio e che vogliono bene a questo territorio. Non ci sono potentati, non ci sono imprenditori che ci proteggono, noi siamo uomini, siamo ragazzi che grazie a Dio abbiamo, abbiamo, ce lo siamo costruiti quello che abbiamo. Quindi il voto è il voto a questa comunità, a questa gente, io vivo questa comunità da sempre, chi mi vota sa quello che vota, sa che se non vinco ma sicuramente vincerò, rimarrò in consiglio comunale a fare le battaglie come le ho fatte 5 anni fa, 10 anni fa quando c'era Baril, io ci sarò sempre e resterò a San Giovanni in Fiore, gli altri non lo so, non lo so chi è venuto per la campagna elettorale, se resterà a San Giovanni in Fiore oppure verrà solo magari perché poi resta in consiglio comunale e gli arriva la lettera che deve venire in consiglio comunale. Io ci sarò continuatamente in consiglio comunale. Perfetto, perfetto.